Giorgio Dell'Agostino, una medaglia al collo di bronzo e una grande soddisfazione, un quinto posto che davvero vale come oro. Partiamo da qui. Sì, assolutamente è andato tutto benissimo. La gara classica mi ha regalato un'emozione indescrivibile, visto che finalmente ho potuto veramente giocarmi il podio per pochissimo. Tanto per riparlare di distacchi, veramente su 13 minuti pensare a un secondo e mezzo è niente. Non posso che essere super contento e finalmente di essere lì fra i big. Oltretutto questa era una tua grande aspirazione. Se prima dicevi spero di essere almeno nei primi 10, adesso sarai nella top 5. Un bel salto di qualità. Sì, decisamente. Fin da bimbo che spero di arrivare lì tra quei mostri sacri e finalmente li ho visti un po' più da vicino. Quindi questo non può essere solo che uno sprono a far meglio e sicuramente questo è un bel trampolino di lancio anche per gli europei a fine, a inizio agosto in Macedonia Under 23. Cosa ha fatto la differenza questa volta e ricordiamo che eri nella categoria superiore? Ma ha fatto la differenza probabilmente la più grande cosa è stata la testa. Nel senso che sono cambiate tante cose, il mio modo di approcciarmi a questo sport, a questa disciplina. Come sempre ho cercato di non lasciare niente al caso, però è proprio cambiata un po' la testa. A questo punto come prosegue per te la stagione da qui agli europei? Da qui agli europei ci sono in programma intanto due campionati italiani, tra l'altro molto difficili, nel senso che i fiumi che vengono presentati sono molto tecnici. Abbiamo infatti il campionato italiano Under 23 in gara classica a Vipiteno e poi quello sprint su un percorso molto difficile in Val di Sole a Mezzana. Dopo questi appuntamenti poi si partirà per la Macedonia. Grazie. Grazie.